Sono qui da 21 anni e dal 2016 abbiamo creato questa società che in realtà eravamo in tre perché tra cui una ragazza originale della Libia e poi per regioni personali non ha più continuato con noi. Dunque siamo in due soci che ci siamo conosciuti qua e siamo venuti nello stesso anno nel 99 in Italia. Io per regioni di studio, lui regioni di studio non in Italia, lui è passato per la Turchia che gli è andato male l'esperienza e il primo paese verso cui ha pensato immigrare è l'Italia. Lui è arrivato in Italia senza conoscere nessuno, neanche avere un numero di telefono che di solito noi abbiamo almeno più o meno un'idea dove andiamo a vivere. Poi dopo si è fatto una strada e ci siamo conosciuti dal 2001. E Senasso come nome sta per Senegal-Napoli-Società. E' semplicissimo. Perché Senegal? Noi due siamo molto, 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 molto ancora attaccati, radicati alle nostre origini. E tra l'altro ricordo io sono doppiamente immigrato. perché i miei sono immigrati in Senegal, vengono dalla Guinea-Bissau, siamo un paese confinante del Senegal perché allora c'era più opportunità di lavorare. Dunque gli uomini si spostano perché non per sempre per piacere, ma anche per poter migliorare le conduzioni economiche. Questa doppia immigrazione comunque ha forgiato una personalità perché non è stato facile e venire qua anche se per motivo di studio è sempre stata una sfida. La sfida è venire da una famiglia modesta che poteva benissimo dire ok vengo qua e mi metto a lavorare, faccio subito i soldi. No, ho preferito prima cercare di farmi, di fare un percorso universitario che ho fatto, iniziato in Senegal perché non ho finito e volevo finirlo qua in Italia. Dunque questa società ha creato che si occupa infatti di consulenza, di traduzione di documenti ma anche di corsi di italiano perché noi siamo resi conto che molti dei nostri cornazionali vuoi che per ragioni professionali non riescono a studiare l'italiano e noi siamo anche adeguati a questi orari. Dopo il lavoro, verso le 19, facciamo questi corsi di italiano per loro. Questa esperienza proprio della società è stata, quando abbiamo creato la società abbiamo voluto che sia uno spazio proprio di condivisione da subito. Tuttora in questo spazio fisico convivono anche altre esperienze. Quanto bella, CASBA che è una cooperativa proprio di mediatori culturali che vengono da diversi continenti, sono i senegalesi, i marocchini, i asiatici come Sri Lanka che anche loro hanno sempre agito nel mediare per quelle che possono essere le difficoltà che si possono incontrare nelle scuole per i bambini e difficoltà nei posti di lavoro. Oltre a questa realtà CASBA c'è l'ONG Oxfam che condivide lo spazio che sapete che loro intervengono molto su problematiche legate a questioni di sviluppo nei nostri paesi d'origine. oltre a queste realtà abbiamo anche professionisti, siamo avvocati che vengono anche loro a dare consulenza legale. Dunque questo è uno spazio proprio di condivisione. Però non si limita soltanto nel territorio napolitano ma anche noi lo potremmo, perché l'abbiamo chiamata Senegal perché noi vorremmo anche fare da ponte, anche mettere insieme quelle che possono essere le esperienze. L'ha detto prima l'amico mio, Cleopas, che diceva che l'Italia che si è appoggiata molto sulle piccole imprese e questa esperienza proprio di tanti anni possiamo noi almeno attingere per poter comunque fare un collegamento anche nel nostro paese d'origine. Questo è proprio il nostro obiettivo grande che fa parte anche dell'oggetto sociale della società. No, che società è la quale amo sempre chiamare società sociale perché la società è... Noi non è che non facciamo tutti però la prima cosa, il primo modo è dire chi ha la possibilità può dare un contributo chi non ha la possibilità non è che viene e la mettiamo da parte. Questa è l'esperienza che stiamo vivendo con Senaso. In più c'è nato il fatto di migranti. Migranti proprio è rama, diciamo, prende a conto corrente la narrazione che più si sente in giro per quanto riguarda l'immigrazione in generale e in particolare a Napoli. Migranti è proprio poter... io da accompagnatore o narratore e che è più bella questa parola da narratore cerco di narrare tutti i percorsi degli immigrati nei loro lavoro, nei loro culto però io quando racconto racconto secondo il mio punto di vista. Io da senegalese con la mia propria esperienza la mia infanzia però lo racconterebbe diversamente se ci fosse stato non lo so se ci fosse una una originale dello Sri Lanka un'originale dell'Ucraina dunque questa è la bellezza di queste migranti che i percorsi anche sono stati disegnati con un obiettivo ben definito che sono prevalentemente sono tre percorsi i primi percorsi di Piazza Garibaldi che lì puntiamo soprattutto sulla convivenza tra italiani immigrati ma anche per lo più immigrati che vengono da diversi continenti esempio su questo via Bologna dove c'è collocato il mercato senegalese ma saranno 100 metri però in questi 100 metri sono sviluppate le esperienze di vita di interesse ma anche che va al di là dell'interesse economico ma è esperienza proprio di vita umana voglio chiamare la convivenza tra gli ambulanti di via Bologna e su cui anche noi abbiamo abbiamo dato il nostro contributo in questo libro che vivere non è un reato e questo qui che convivono diverse persone che vengono da diversi luoghi in più c'è questa esperienza che è fortissima a Napoli i pakistani che hanno di solito aprono il kebab e aprono il kebab danno anche la possibilità a una signora senegalese di poter anche cucinare senegalese e lì c'è le persone che frequentano questi luoghi che possono essere diciamo da diverse nazionalità è molto bella anche secondo me ha oltre all'esperienza il fatto proprio dell'interesse economico ma questo è l'interesse proprio culturale che si possono essere in questi luoghi in più c'è la pasticceria di Lauri dove questo qua si è adeguato dice ok io ho la clientela sia italiana ma anche sia anche clientela nord africana che loro hanno una tradizione di pasticceria e si è adeguato nel senso che ha cercato anche di di fare una pasticceria che io dico tra virgolette halal perché sapete benissimo diciamo gli usulmani non possono mangiare né carne di maiale ma anche neanche bere l'alcol e lui proprio la cosa bella soprattutto nel periodo del ramadan fa questi dolci tipici però cerca sempre di non usare non usa mai non è che cerca non usa mai grassi animali che soprattutto è lo strutto che è il maiale e non usa neanche l'alcol quando fa il babà non lo bagna subito con il babà viene anche bagnato con l'acqua di rosa dunque sono lui anche ha preso in considerazione comunque l'immigrazione cioè gli stessi bisogni che possono avere quelli che sono gli autotoni possono anche avere l'immigrazione dunque questa è l'esperienza che pensiamo insieme così anche questi percorsi perseguono altri interessi quel percorso di via tribunale che richiama la schiavitù di una volta partendo proprio dal banco di Napoli che noi abbiamo una cosa incredibile a Napoli che se non fosse stato per i migranti non avrei mai conosciuto questo luogo il banco di Napoli che una volta che gli schiavi che potevano anche essere riscattati dai valori con la banca per liberare uno schiavo in Tunisia o dalla Turchia e finisce il percorso con proprio quelle che chiamiamo adesso la schiavitù odierna che sarebbe i cosiddetti richiedenti asilo i rifugiati con l'ES che c'ha un centro di accoglienza dunque tutti i percorsi sono qui con una visione dietro che l'ambiente comune non ci va non ci va di per sé uno non si alza e dice vado via Bologna no ci stanno andando perché hanno tra i nostri racconti tramite i nostri racconti hanno hanno captato captato queste possibilità queste conoscenze questo questo spirito proprio che sta nella convivenza di Napoli dunque narriamo narriamo sempre le cose belle e veramente questo ci fa far sì che la convivenza possa essere una convivenza felice una convivenza reale perché qua si parla di vite umane non si parla di altro sono parte di vite umane di bisogni e che penso che è giunto il tempo che l'Italia possa anche essere una cosa molto normale che un italiano va a Dakar a non lo so a vivere la sua impresa a vivere la sua vita a realizzarsi ma che anche altrettanto uno del Bucina Faso possa venire a Napoli e vivere o andare a Milano e che sia una cosa proprio naturale questi spostamenti devono diventare non più un noi e loro ma deve diventare un noi per tutti quanti e mi fermo qua e aspetto anche se ci sono le domande ben piacere di rispondere grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti